Il 118 in festa in occasione del trentennale della sua istituzione avvenuta il 27 marzo del 1992. La centrale operativa del 118 di Caltanissetta, diretta da Giuseppe Misuraca, saluterà l'evento con tre giornate di incontri con i cittadini ad Agrigento in piazza Cavoura, Caltanissetta in piazza Garibaldi e Aenna in piazza Municipio, rispettivamente il 23, il 25 e il 27 marzo, dalle 9 alle 14. Nei gazebo che saranno allestiti per l'evento, i cittadini potranno ricevere materiale informativo, incontrare medici, infermieri, tecnici e soccorritori, assistere a una dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare ed eseguirla sotto la guida di esperti su manichini utilizzati per la formazione dei soccorritori. Sarà un'occasione speciale, ha detto Misuraca, medico anestesista e rianimatore, per celebrare un servizio che da 30 anni è pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale e che si è rivelato ancora più importante in questi due anni di pandemia. A tal proposito ringrazio medici ed infermieri, tecnici e autisti, soccorritori, che in questo periodo hanno dato prova più che mai di encomiabile attaccamento al lavoro. Far parte del 118 significa anche avere la passione, lo spirito di sacrificio, il coraggio che ho visto negli occhi di tanti di noi. Quanto ai dati, nel 2021 la centrale operativa di Caltanissetta ha effettuato un totale di 54.571 trasporti di pazienti in ospedale su un totale di 74.421 chiamate di soccorso giunte in sala operativa. Gli altri pazienti sono stati soccorsi direttamente a casa o aiutati telefonicamente. Sono 7.174 invece gli interventi relativi ai soli casi Covid nel 2021 e 689 le ore totali di volo in elisoccorso.